Per quanto attiene alla tecnica automobilistica, possiamo affermare che nei suoi 75 anni di vita la Ferrari ha esplorato tutte le soluzioni possibili, utilizzando di volta in volta le più avanzate tecnologie. Grazie all'apporto scientifico di ingegneri di altissimo livello come Gioacchino Colombo, Giotto Bizzarrini, Carlo Chiti, Mauro Forghieri, tanto per citare i più noti, e all'inventiva artistica di prestigiosi carrozzieri come Scaglietti, Zagato, Bertone e soprattutto Fininfarina, le vetture del Cavallino hanno sempre rappresentato elementi di assoluta avanguardia e di altissime prestazioni. Nel tempo sono state studiate, progettate e realizzate macchine con soluzioni tecniche diversissime. A titolo di esempio, la posizione del motore, anteriore e posteriore centrale. Ferrari una volta disse, io ho sempre visto il cavallo tirare il carretto, mai spingerlo, ma dopo i successi ottenuti in Formula 1 nei primi anni 60 dai costruttori inglesi con macchine a motore posteriore, dovete arrendersi ed adottare anche egli la nuova architettura delle vetture. Caratteristiche del motore, aspirato e turbo compresso, carburatori all'iniezione elettronica, termico ed elettrico combinati, cilindri in linea e da V con varie angolazioni 65, 90 o 120 gradi a 2, 4 e 5 valvole per cilindro. Cilindrate da un minimo di 750 cm3 sino ad un massimo, ad oggi, di 6.500 cm3. Frazionamento del motore, da un minimo di 4 cilindri al classico 12 cilindri, passato per il 6, l'8 e il 10 cilindri. Enzo Ferrari in una intervista affermò, ho scelto la strada dei motori di 12 cilindri, quella che avrebbe dovuto decretare, secondo le previsioni di molti, la fine delle mie ambizioni, ma essi sono quelli che ancora oggi vincono le corse. Ho battuto anche la strada del 4, del 6 e dell'8 cilindri, ma il 12 cilindri rimane il mio tema tradizionale e certamente il più amato. Cambio. Ad innesto manuale con la classica griglia a selettori e ad innesto elettroidraulico con le levette poste dietro al volante, a 4, 5, 6, 7 e 8 rapporti. Freni a tamburo, a disco e carboceramici. Carrozzerie del tipo berlinetta, spider, cabriolet e convertibile, a 2 e a 4 posti. Nelle linee di montaggio della nuovissima fabbrica di Maranello, vengono attualmente prodotti i seguenti modelli. Portofino, con carrozzeria convertibile, motore turbo compresso, 8 cilindri a V di 90 gradi, 3.900 cm3, 620 CV, velocità 320 km all'ora, accelerazione da 0 a 100 in 3,5 secondi e da 0 a 200 in 10 secondi e 8. Roma, con carrozzeria berlinetta a 4 posti, motore turbo compresso, 8 cilindri a V di 90 gradi, 3.900 cm3, 620 CV, velocità 320 km all'ora, accelerazione da 0 a 100 in 3 secondi e 4 e da 0 a 200 in 9 secondi e 3. 296, con carrozzeria berlinetta o spider, entrambe con un motore biturbo 6 cilindri a V di 120 gradi, 3.900 cm3, 663 CV ed un motore elettrico da 167 CV per una potenza complessiva di 820 CV, velocità 330 km all'ora, accelerazione da 0 a 100 in 2 secondi e 9 e da 0 a 200 in 7 secondi e 3. SF90, con carrozzeria berlinetta o spider, entrambe con motore biturbo 8 cilindri a V di 90 gradi, 4.000 cm3, 780 CV e 3 motori elettrici da 220 CV per una potenza complessiva di 1000 CV, velocità 340 km all'ora, accelerazione da 0 a 100 in 2 secondi e 5 e da 0 a 200 in 6 secondi e 5, trazione integrale, puro sangue, con carrozzeria SUV, motore aspirato 12 cilindri a V di 65 gradi, 6.500 cm3, 725 CV, velocità 310 km all'ora, accelerazione da 0 a 100 in 3 secondi e 3, trazione integrale. Al momento attuale queste sono le macchine di serie che materializzano il mito del cavallino campante. Per coloro i quali fossero interessati all'acquisto, comunico che i prezzi vanno da un minimo di circa 205 mila Euro per la Portofino, ad un massimo di circa 479 mila Euro per la SF90 Spyder, ovviamente esclusi gli optional che sono tantissimi ed in vero tutti assai costosi. A titolo di curiosità riferisco anche che se si era avuta la fortuna di rientrare nel novero dei 499 soggetti inclusi nella short list redatta dalla casa madre, si era concretizzata la possibilità di entrare in possesso della favolosa F-150, meglio nota come la Ferrari, realizzata in un numero limitato di esemplari per celebrare il settantesimo anniversario della casa del cavallino. Carrozzeria Berlinetta, motore 12 cilindri a V di 6.292 cm3, 963 CV, 800 dal motore termico e 163 dal motore elettrico ausiliario, velocità oltre 350 km all'ora, accelerazione da 0 a 100 in meno di 3 secondi, da 0 a 200 in meno di 7 secondi e da 0 a 300 in meno di 15 secondi. In questo caso è meglio glissare sulla modica cifra necessaria per acquisirla. Ma come nasce questo mito della Ferrari? Me lo sono chiesto più volte e tentando di darmi delle risposte ne ho individuato almeno tre motivazioni. La prima è legata alla straordinaria ammesse di successi ai quali abbiamo fatto cenno in precedenza. L'emozione di una rossa che taglia per prima il traguardo, lo sventolio delle bandiere sorrette dai tifosi ebri di gioia, la cerimonia del podio per la premiazione del vincitore, sono tutte circostanze che ben servono ad alimentare questo mito anche nelle nuove e nuovissime generazioni. Infatti è bellissimo osservare il comportamento di un bambino quando, ad esempio, scorge una Ferrari parcheggiata in un'area di servizio lungo un'autostrada. Prima si avvicina correndo, poi la guarda con rispetto girandole attorno, infine schiaccia il naso sul vetro per scrutarne l'abitacolo. Se poi il proprietario, come anch'io spesso ho fatto, apre lo sportello e lo invita a salire a bordo, dapprima rimane esterefatto ed incredulo. Quindi si accomoda circospetto sul sedile di guida ed infine, felice, afferra il volante sognando per un attimo di essere un vero pilota professionista. La seconda è legata alla circostanza che le vetture Ferrari hanno fatto le prime loro apparizioni sulle strade e sui circuiti nell'immediato dopoguerra. In un'Italia ancora scossa dagli eventi bellici e che timidamente si incamminava sul difficile percorso della motorizzazione di massa, in un periodo in cui i mezzi di locomozione erano rappresentati, nella maggior parte dei casi, dalle Vespe e dalle Lambrette, dalle 500 e dalle 600 Fiat, tutte con velocità dell'ordine degli 80-100 km all'ora. Le Ferrari già raggiungevano e superavano i 200 km all'ora e il rombo dei motori a 12 cilindri trasmetteva un indescrivibile senso di potenza e di vigore. Le vetture del cavallino rampante rappresentavano uno status symbol e costituivano un elemento di riscatto e di rivincita dopo i tempi bui della guerra e gli orrori dei bombardamenti e delle distruzioni. La terza è data dal fatto che le Ferrari racchiudono in sé lo spirito e la cura artigianale accoppiate alla tecnologia più avanzata, la bellezza delle forme e la potenza dei motori, la sobrietà di una vettura di serie avvolta da una nube di autenticità e di esclusività. Quando si parla di 250 GTO, di 246 GT, di 308 GTB o GTS, di Testa Rossa, di F40, di 550 Maranello, di F50 o di Enzo, si parla di automobili entrate nella leggenda. Sul quotidiano Il Tempo, del 5 ottobre 1990, il giornalista Luigi Saitta, nel presentare la mostra Idea a Ferrari che in quei giorni era presente a Firenze nel Forte Belvedere e dall'interno della quale era esposto anche il mock-up in legno utilizzato dai mitici operai battilastra per conformare manualmente le varie parti della carrozzeria, così scriveva I boli di rossi della casa di Maranello che sfrecciano vincenti sulle piste di tutto il mondo hanno fatto scrivere pagine e pagine di cronaca non solo sportiva. Una vettura, la Ferrari, che senza ombra di retorica è assurda a mito, un mito che vive perché è l'incarnazione tangibile dell'idea dell'automobile con tutte le sue componenti fondamentali, tecnica, estetica, potenza, esclusività, leggerezza e resistenza. Di questo mito si può dire che siano rimasti stregati in molti. Teste coronate come Re Bernardo d'Olanda o lo Shah di Persia, Reza Paravi, erano di casa a Maranello e venivano sempre ricevuti da Enzo Ferrari con una sincera cordialità riservata a pochi. Il sultano del Brunei è uno dei più appassionati collezionisti di automobili del Cavallino. Ne possiede svariate decine di tutti i modelli e di tutti i colori. ma sinceri estimatori delle Rosse sono stati anche dei famosi esponenti del mondo delle arti, come il grande direttore d'orchestra Herbert von Karajan, il regista Roberto Rossellini, che oltre a quelle da lui usate, regalò una macchina ad Ingrid Berman e la vole di un colore che richiamasse quello degli occhi della celebre star e che verrà denominato Grigio Ingrid. Le attrici Anna Magnani e Sharon Stone, da importanti imprenditori come lo stesso Gianni Agnelli, per il quale fu costruita in esemplare unico una testa rossa Cabrio, e di fratelli Marzotto, da campioni dello sport, motoristici e non, come Cristiano Ronaldo, Valentino Rossi, Usain Bolt, Alberto Tomba, Diego Armando Maragona, tanto per citarne solo alcuni. Alla enorme schiera delle persone si affiancano poi alcune figure istituzionali. Valga per tutte il quarto stormo caccia dell'Aeronautica Militare Italiana, reparto che custodisce gelosamente le tradizioni di Francesco Baracca e che esibisce sulle derive dei propri velivoli il simbolo del cavallino rampante. Grazie al cemellaggio stretto tra lo stormo e la Ferrari, entrambi portatori del glorioso stemma, un velivolo F-104 Starfighter troneggia davanti alla palazzina degli uffici all'interno del circuito di Fiorano. Esso è dipinto di colore rosso e porta i numeri 4-27, il primo ad indicare l'appartenenza al quarto stormo ed il secondo a ricordare il numero di gara di Gilles Villeneuve. Senza alcun dubbio però il personaggio più famoso salito a bordo di una Ferrari è il Papa. Il 3 giugno 1988 Giovanni Paolo II, durante la sua visita alla fabbrica di Maranello e all'adiacente circuito di Fiorano, simpaticamente infrangendo il protocollo e sconvolgendo il rigido cerimoniale, improvvisamente chiese di poter fare un giro di pista su una vettura del cavallino. In fretta e furia fu reperita una mondia al cabrio, ovviamente di colore rosso, un emozionatissimo Piero Ferrari si pose alla guida, il Pontefice prese posto sul lato del passeggero e fece il desiderato giro di pista tra gli applausi festosi ed ammirati di uno scuolo di spettatori. Avviandomi alla conclusione di questa chiacchierata, mi fa piacere ricordare che John Sartis, l'unico pilota capace di laurearsi campione del mondo prima e per ben sette volte sulle due ruote con motociclette MW Augusta e poi sulle quattro ruote con una vettura Ferrari, un giorno disse Ferrari è un simbolo dell'Italia, un uomo che è riuscito a raggiungere risultati strepitosi partendo da zero, aprendo a nuove prospettive per l'industria automobilistica. Questo uomo ha chiuso la sua esistenza terrena 35 anni addietro, in una torrida giornata estiva il 14 agosto 1988, alla bella età di 90 anni. Enzo Ferrari, il commendatore, l'ingegnere o il Drake, come veniva chiamato rispettivamente dai suoi collaboratori, dai suoi estimatori e dai suoi avversari sportivi, ha lasciato un'eredità spirituale ed imprenditoriale della quale tutti noi dobbiamo essere fieri. Le vetture che uscivano prima dai cancelli della vecchia fabbrica in via Betone Inferiore e che ora varcano quelli del nuovissimo stabilimento in via Grezzana rappresentano senza alcun dubbio una meravigliosa espressione di ingegno, di creatività, di stile, di potenza e di eleganza che onora l'Italia. Anche per questo dobbiamo essergli riconoscenti, così come io sono riconoscenti a tutti voi per la vostra attenzione.